Ciao ragazzi e ragazze, mi chiamo Marco e oggi vorrei parlarvi della netiquette per le videoconferenze. I più smart magari sanno già di cosa si tratta, ma cos'è la netiquette? Beh diciamo che è un po' come il galateo, l'insieme delle regole dei comportamenti da tenere in un determinato ambiente, in questo caso per le videoconferenze su internet. Ne volete sapere di più? Siete pronti? E allora? Andiamo a me occhi e orecchie. Siete pronti? Iniziamo vedendo le regole per la videoconferenza, o meglio direi i suggerimenti per la videoconferenza, o meglio ancora i famosi tips and tricks, cioè le strategie da utilizzare in questi casi. Numero uno, la puntualità. La puntualità è sempre importante. A scuola, come vedrete nella vita, è fondamentale arrivare in orario, magari anche un paio di minuti prima. Se non siete velocissimi quindi e volete fare le cose con calma, magari puntate la sveglia un attimino prima, anche perché è fondamentale fare una buona colazione. Il cervello consuma un sacco di energie e voi avete un'intera mattinata di lezione davanti, ovviamente senza esagerare. Altrimenti... Considerate anche i tempi tecnici di collegamento. Non sempre la rete internet è dalla vostra parte ed è veloce come vorremmo. Quindi un piccolo trucco è far partire il collegamento un paio di minuti prima, lasciando magari il microfono e la telecamera disattivati e approfittarne per finire di sistemare la scrivania. Numero due, anche se l'aula è virtuale, ricorda sempre che è la tua classe, il vostro spazio tuo, dei tuoi compagni e delle tue maestre o professori. Quindi non possono e non facciamo entrare strani o persone appartenenti alle altre classi, evitato dare il link dalle video redizioni ad altri. Non registrare o fare degli snapshot o screenshot delle schermate se non preventivamente concordato con compagni e maestre o professori. Ricorda che la diffusione di queste immagini rientra nelle leggi sulla privacy e quindi potrebbero esserci delle azioni disciplinare in merito, nei tuoi confronti e dei tuoi genitori. Tre, metti il cellulare in modalità silenzioso. Lo so, lo so, per molti non si può fare senza, ma liberati dalle distrazioni. Se riesci a seguire la lezione senza distrarti, vedrai che sarà tutto molto più facile anche a casa e semplice da capire. Quindi disattiva le notifiche e metti in modalità silenziosa e avvisa anche chi è a casa con te di non fare troppo rumore. Altri suggerimenti. Porta sempre con te un bicchiere d'acqua, proprio come ho fatto io. Non sai quando si farà una pausa e se dovesse avere sete diventerebbe veramente difficile dover interrompere la lezione a tutti i tuoi compagni per andare a bere. Attiva la telecamera affinché il docente possa avere una visione di insieme dell'intera classe. Disattiva invece il microfono e attivalo solo se richiesto dal docente o dalla maestra, ad esempio per rispondere all'appello o una domanda diretta. Se vuoi invece intervenire esattamente come facevi in classe, alza la mano cliccando sull'apposita iconcina che trovi nel tool che stai utilizzando. Entrare a gamba tesa disattivando il microfono non è educato e diciamo l'avreste mai fatto in classe. Non usare la chat per parlare con i tuoi compagni. Questo crea distrazione per te, per loro e irrita e non poco chi sta parlando, che sia esso una maestra, un professore o qualche compagno ad esempio. Prima della lezione prepara sempre carta e penna, pronto per prendere appunti qualora ne avessi bisogno. Grazie, grazie mille a tutti e alla prossima puntata. Grazie mille a tutti e alla prossima puntata.